buongiorno benvenuti sulla clipper questa è la sala principale dove si può schiacciare un pisolino mangiare fare colazione oppure versi una birra mentre si guarda la televisione si passa alla cucina il mio regno e qui potrete trovare veramente di tutto dai bicchieri per bere qualsiasi cosa ventole necessaire posate e un bel posto per la dispensa con qualche cosa che vi potete portare dall'italia questa è la camera da letto o almeno quella che ci siamo scelti noi con un bel matrimoniale comodo spazioso l'armadio il bagno privato e tanti oblò dove potrete ammirare fuori ai roni cenerini e le mucca al pascolo se avete compagnia oppure avete tantissimo bagaglio e volete usare una cabina come armadio questa è la seconda camera da letto sempre con un matrimoniale tanto spazio per mettere le vostre cose e un altro bagno privato dove potrete fare la doccia le biciclette sulla barca sono fondamentali vi consiglio vivamente di affittarle perché tutti gli attracchi sono molto lontani dal centro sono delle mountain bike con cambio 18 velocità e simpatico cestino che potete riempire di birro capitano con una leva si può spostare i comandi sulla plancia esterna ottima visuale brezza nei capelli e se fico come Miami Vice